ciao a tutti ragazzi sono david degli evocusing benvenuti in questo nuovo video sugli snake pic siamo qua con l'elisa ciao allora ragazzi perché non è che simone si è trasformato in una ragazza anche se non sarebbe male però però siamo qua con l'elisa perché simone oggi non può essere presente quindi grazie alla sua compagnia faremo i primi snack pic ovviamente lei era assolutamente d'accordo a fare questo video amore mi dovresti aiutare a fare un video per il canale già come potete vedere ragazzi dallo schermo halloween sta arrivando halloween is coming yes che pronuncia inglese potente l'update della supercell è già stato rilasciato infatti abbiamo il nuovo aggiornamento che è facoltativo dentro il nuovo aggiornamento ragazzi cosa troverete essenzialmente cazzate perché come vedete dallo schermo hanno aggiunto che cosa di importante niente un gem boost che è praticamente quello delle pozioni però noi ci aspettavamo che appunto mettessero un gem boost sulle caserme o magari qualcosa di più utile come quelle nere caserme nere caserme normali invece niente ragazzi questa per quest'halloween balza tutto un'altra cosa interessante ragazzi hanno aggiunto il calderone cosa fa questo calderone essenzialmente quello che faceva l'anno scorso la tomba di halloween se ve la ricordate praticamente costa toglierlo la bellezza di 25 mila monete e guadagnerete 75 mila monete appunto appena lo avete levato la novità di questa di questo aggiornamento cosa sarà il palettone come potete vedere no ragazzi è semplicemente un municipio che sarebbe il municipio livello 11 che secondo me ragazzi è un palettone perché la forma è quella non è non è la forma del palettone quella è quello ti sembra te ecco vedo io c'ho la sua fantasia ragazzi a me sembra un palettone ha il deposito d'oro un po' ingrandito supercell come fate a fare il municipio livello 11 bianco è bellissimo in base a alcuni pareri ragazzi il municipio bianco non rende quindi avevo ragione io tanto per farvi vedere un pochino come ce l'aspettavamo ragazzi questo è un vero municipio il municipio livello 11 come ce l'aspettavamo era così bello figo cosa ti sembra con lo zucchero cosa ti sembra con lo zucchero con la pasta di zucchero io da cuoca lo faccio ma questo qua è migliore del municipio di quello cioè tu provo a mettere a confronto il municipio di quello prima che ti ho fatto vedere che sembrava quello del panettone e questo qua quale ti sembra meglio cioè anche a grafica non ti sembra accattivante che c'è una grafica più accattivante questo municipio a lei piace quello col panettone oppure ragazzi un'altra variante che è uscito da poco era questa appunto quella con questo proprio non ti piace troppo buona quella con la torre inferno ragazzi al centro che veramente una fantasia comunque dai il in sé il municipio non è non è tanto male l'unica cosa che non mi piace sinceramente la torre inferno però comunque meglio sinceramente del panettone un'altra novità particolarissima è i pokemon esattamente ragazzi perché la super cell ha deciso di darsi il pokemon e quindi come potete vedere abbiamo questa nuovissima difesa che è un'aquila praticamente bianca e oro bianca e oro si la vedono tranquilla no io stavo guardando qua sinceramente guardi sbagliato guardi lo schermo sbagliato come funziona questa questa difesa praticamente lancia dall'alto un raggio che è terminato diciamo così con una piccola bomba non ho qua il video da farvi vedere perché non l'ho visto su snapchat e non so se c'è ancora probabilmente se c'è ancora ve lo metto è molto potente perché da quello che ho visto dal video ha shottato anzi quasi shottato metà vita di un re barbara al 40 e uno dice come fa boh scrivete sotto nei commenti come fa a essere così tanto potente bene ragazzi allora per questo video è tutto come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace se altri aggiornamenti escono nel frattempo cercherò di farvi altri video ovviamente da solo perché ryan in questi giorni come ho già detto non c'è sarò io esatto avremo la sostituta quindi mi raccomando vi invito a lasciare un bel mi piace il link nella social network sono in descrizione noi ci vediamo in un prossimo video degli no degli snap pic ciao a tutti ragazzi ciao a tutti